Mister, le tue parole che c'è alla vigilia sono state confermate. Ti era piaciuto il lavoro fatto in precampionato, tu hai reso, hai fatto una buonissima partita, hai creato tante occasioni. Sì, hai detto bene, avevo grande fiducia in questa partita, nonostante affrontavamo, secondo me, una delle squadre più importanti di questo campionato. Ho visto una squadra attenta, vogliosa di mettere in pratica quello che avevamo fatto in questo inizio di stagione. Ho visto una squadra affamata che voleva vincere a tutti i costi, non ci siamo riusciti, abbiamo creato tante occasioni, ma, ripeto, avevamo di fronte una squadra importante che ci ha tenuto testa, hanno avuto anche loro qualche occasione, quindi ci prendiamo questo pareggio, nonostante ci tocca di giocare già domenica, che è magari l'unico neo di questo pareggio, però con grande fiducia e con grande entusiasmo. Il fatto di giocare domenica vi avvicina ancora di più all'inizio ufficiale della stagione, o meglio, il campionato? Sì, ecco, questo doppio impegno ravvicinato, magari dobbiamo un attimo recuperare le energie, perché fare due partite così importanti, insomma, così ravvicinate, magari dovremo ruotare sicuramente qualcosa, lo faremo, non è un problema, ma cercheremo comunque di fare i tre punti a Montoreo, perché ci terremo a passare il turno, però, ripeto, la prestazione di oggi mi lascia fiducioso, mi lascia contento, ho detto appena adesso ai ragazzi che questa è la strada giusta, quindi dobbiamo continuare a lavorare, a crescere, è un gruppo giovane, oggi ha addirittura esordito un 2007, un ragazzo di grande prospettiva, quindi sono molto contento. Mistero 1-0-0, è il 21 di agosto, ma non sono mancate le emozioni comunque. Sì, abbiamo fatto una buona partita, anche la torresa secondo me ha fatto una buona partita, abbiamo avuto delle occasioni importanti per fare gol, sia noi che la torresa l'abbiamo sbagliato clamorosamente, penso che sul risultato sia un risultato giusto, per essere una partita del 20-21 di agosto abbiamo avuto anche dei ritmi abbastanza buoni, la prima partita ufficiale, quindi sono contento perché ho visto una squadra tosta, è una squadra che ha margini di miglioramento, dobbiamo recuperare ancora qualche ragazzo, però sono contento del risultato perché questo è sempre un campo difficile. Ci sono tanti volti nuovi da inserire, Ovidiana comunque che è una tra le favorite. No, noi abbiamo fatto una buona squadra, l'abbiamo ampiamente detto che vogliamo migliorare quella che è la classifica dell'anno scorso, è normale che ci sono squadre molto forti, però noi secondo me ce la possiamo giocare con tutti, se giochiamo con questa umiltà, con questa voglia, con questa attenzione, abbiamo avuto qualche sbavatura, ma ci può stare al 21 di agosto, sono convinto che questa squadra potrà dare soddisfazioni ai tifosi del Sulmona.